E' qui che si dona il sangue? Sì, dai. Era la prima volta, vero? Sì. Me ne ero accorto, sai? Un po', avevo paura. Per così poco? Mai avere paura di aiutare gli altri. Lei viene spesso qui? Sì. Io l'ho fatto per Mario, mio amico. Anch'io l'ho fatto per Mario. Perché lo conosce? No. Ricordatevi di Mario prima di partire per le vacanze. Grazie.